Noi auspichiamo che si faccia in fretta e che si regolamenti da parte del Parlamento una materia tanto delicata, anche perché in assenza di regolamentazione sull'obbligo vaccinale si inseriscono altri soggetti, si inseriscono i giudici, spesso dando interpretazioni o formulando sentenze che non rispondono però ad una norma. Il Premier Draghi l'ha annunciato senza mezzi termini. Il Governo sta preparando un decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid, per gli operatori sanitari, medici, infermieri e os che lavorano a contatto con i malati nelle corsie degli ospedali o delle case di riposo, perché in questi luoghi non può esserci posto per i Novax. L'adesione di medici ed infermieri alla campagna vaccinale in Veneto è molto alta, un po' meno bene andata per gli operatori sanitari, specie nelle RSA. In Veneto siamo oltre mediamente l'80% rispetto alle 348 strutture e 32.500 posti letto circa che assommiamo. Credo sia il dato più significativo d'Italia. Certo è che per chi ha vissuto in prima persona il dramma consumatosi nelle case di riposo, è inaccettabile che operatori non vaccinati possano lavorare con persone così vulnerabili. Nel momento in cui fai una scelta professionale di questo tipo di fare un mestiere a servizio delle persone fragili, credo che in una situazione come questa il fatto di fare il vaccino sia un senso di grande responsabilità ma di coerenza.